Anci Puglia Situazione a dir poco disastrosa per quanto riguarda la Puglia, che risulta essere l'ultima regione d'Italia per rapporto tra unità di dipendenti comunali per mille abitanti, poco più di quattro dipendenti, preceduta dal Veneto penultima con 5,54 e dall'Abruzzo 5,59, a fronte di una media nazionale di 6,77. Questo significa che i comuni pugliesi riescono a svolgere le stesse funzioni degli altri italiani con circa 8.000 dipendenti meno. Dal rapporto emerge che anche il personale dei comuni pugliesi, oltre ad essere insufficiente, è anche sottopagato. Nello specifico, il protrarsi del blocco retributivo ha creato una dinamica 2011-2014 negativa. Infatti, i comparti delle autonomie territoriali come i comuni, province e regioni scontano in termini di retribuzione pro capite, sempre dal 2011 al 2014, tassi negativi attorno al 2%, con cali del 4% in corrispondenza della dirigenza. Cresce anche l'età media dei dipendenti comunali a tempo indeterminato, che è di 51 anni, mentre nel 2013 era di 50 anni.